Nella lezione precedente abbiamo introdotto i numeri razionali, che come già si è detto sono oggetti, enti, che sono rappresentati non tanto da una singola frazione, ma da una frazione e da tutte le frazioni ad essa, dovremmo dire equivalenti, ma così più comunemente si dice uguali. Dunque un singolo numero razionale è rappresentato da una classe di equivalenza di frazioni. Abbiamo già usato la parola numeri in un certo senso, prima ancora che ciò fosse legittimo, perché per poter dire che si tratta di numeri dobbiamo definire le operazioni tra questi enti rappresentati da frazioni, ed è quello che subito facciamo. Partiamo da un esempio che ci può aiutare, supponiamo per esempio di voler sommare la frazione, di dare significato a questa scrittura, due terzi più, che so, tre quarti. Ora, se noi fossimo partiti da due frazioni aventi lo stesso denominatore, non avremmo avuto nessuna incertezza, se pensiamo un momento al problema che ci ha condotto alle frazioni, cioè la misura delle lunghezze, delle grandezze geometriche, per esempio i segmenti. Se dovessimo sommare, che so, due terzi più un terzo, è chiaro che se io porto due volte la terza parte, in unità di misura, poi ancora una volta, è come se portassi tre volte, quindi è come se io considerassi la frazione che ha per denominatore il denominatore comune, e per numeratore la somma dei numeratori, se anziché fare due terzi, dicevo più un terzo, facciamo più quattro terzi, così forse è più significativo, se io porto due volte un terzo, poi ancora quattro volte un terzo, beh, è chiaro che questo è come portare successivamente sei volte la terza parte, quindi in definitiva in questo caso uguale a due. Quindi, diciamo, l'operazione di addizione tra frazioni è, come dire, immediata, quando si ha a che fare con frazioni avendo il medesimo denominatore. Basta sommare i numeratori e ricopiare il denominatore. Cosa fare invece quando si ha a che fare con un caso come questo, cioè due terzi più tre quarti, due frazioni che non hanno il medesimo denominatore? Il rimedio è semplice, cioè riportarsi, come si usa a dire, al caso precedente, cioè riportarsi al caso di due frazioni che abbiano lo stesso denominatore. Che cosa devo fare? Devo scrivere due terzi sotto forma di frazione equivalente a due terzi, tre quarti sotto forma di frazione equivalente a tre quarti, ma con due frazioni che abbiano il medesimo denominatore, così alla fine le so sommare. Qui il rimedio è semplice. Se io moltiplico, visto che qui ho il denominatore 4, se moltiplico sopra e sotto per 4 ho 2 per 4, 8, 3 per 4, 12. Spero di non sbagliare i calcoli. Qui abbiamo 3, moltiplico sopra e sotto per 3, 3 per 3, 9, 3 per 4, 12. Dunque ho sostituito due terzi con 8 dodicesimi, tre quarti con 9 dodicesimi, ho due frazioni che hanno il medesimo denominatore, basta sommare i numeratori, 9, 8, 17, dodicesimi. E dunque ecco il risultato. Cosa ho fatto in buona sostanza? Vedete cosa ho fatto? In questo caso a denominatore ho scritto il prodotto dei denominatori, poi qui ho 8, che cos'è 8? È 2 per 4, e poi ho 9, che cos'è questo 9? È 3 per 3. Quindi è come se avesse fatto i prodotti in croce, questi prodotti in croce li ho posto al numeratore e a denominatore ho scritto il prodotto dei denominatori. Forse qualcuno ricorderà, dalle scuole medie, che non è estrettamente necessario, e non è neanche a volte intelligente, mettere come denominatore comune proprio il prodotto dei denominatori. Basta mettere un denominatore che sia multiplo comune dei due denominatori, quello che si chiama il minimo comune denominatore. Ma questa è una cosa che si può fare, che conviene fare per ridurre l'onere dei calcoli, ma non è vietato prendere, se si vuole, come denominatore comune proprio il prodotto dei denominatori. Per quanto riguarda la moltiplicazione, la cosa è ancora più semplice, possiamo farci guidare dall'analogia con ciò che accade nel caso in cui una delle due frazioni sia innanzitutto una frazione apparente. Che so, cosa sarà fare 3 per 3 quarti? 3 per 3 quarti è 3 volte 3 quarti, quindi 3 quarti più 3 quarti più 3 quarti. Per quello che abbiamo appena detto, quando abbiamo frazioni che hanno il medesimo denominatore, basta sommare i numeratori, quindi 3 quarti per 3 quarti più 3 quarti, 3 per 3, 9, 9 quarti. Quindi vedete cosa ho fatto? Qui è come se avesse avuto la frazione, che so, 3 primi. Sono aggiunte la frazione 9 quarti, 3 per 3, 9, 1 per 4, 4. In generale il prodotto tra frazioni si esegue così, semplicemente facendo il prodotto dei numeratori, 2 per 4, 8, 3 per 7, 21. Portiamoci qui sul nostro monitor e vediamo riassunte le definizioni delle operazioni in Q, l'insieme dei numeri razionali, per essere rigorosi, classi di equivalenza di frazioni interrazionali, vedete che l'addizione di n su m con p su q, come si diceva un momento fa, ho calcolato i prodotti in croce, n q p m, e questo l'ho posto al numeratore, e al denominatore ho messo il prodotto del denominatore. Per quanto riguarda invece la moltiplicazione, è la cosa ancora più semplice, ho fatto semplicemente il prodotto dei numeratori e il prodotto dei denominatori. Adesso abbiamo il problema di definire la relazione di ordine in Q, cioè di confrontare fra loro frazioni diverse. Ma anche qui ci aiuta il fatto che date due frazioni qualunque, sempre con denominatori positivi, abbiamo visto nella lezione precedente che questo si può sempre supporre senza ledere, come si dice, la generalità dei casi. Supponiamo dunque di avere due frazioni, che so, la frazione n su m e la frazione p su q, e le vogliamo confrontare. Allora, n m sono numeri positivi. Per prima cosa scriviamo queste frazioni sotto forma di frazioni equivalenti, sappiamo già come si fa, prendo la prima, moltiplico sopra e sotto per q, nq, mq, prendo la seconda, moltiplico sopra e sotto per m, pm, e sotto ancora mq. Mi sono ricondotto a due frazioni che hanno il medesimo denominatore positivo, quindi il loro confronto equivarrà al confronto fra i numeratori, e quindi dirò che questa frazione per esempio è minore, la prima è minore della seconda, quando nq è minore di pm o mp. Parole povere, vedete che ancora una volta ho eseguito i prodotti incrociati ed è minore quella frazione il cui numeratore appare in quello dei due prodotti, per così dire, che è minore. Facciamo un esempio numerico che forse ci spieghiamo meglio, chi è più grande fra due terzi e tre quarti. Io dico che è più grande tre quarti, cioè le cose vanno così. Perché? Ma perché se faccio il prodotto incrocio ho due per quattro otto che è minore di tre per tre nove. Vedete che il numeratore di questa frazione compare qui a sinistra laddove abbiamo il prodotto minore. Anche questo è riportato sopra il monitor che già compare alle mie spalle, cui è un campo ordinato. Campo, dire che qui è un campo vuol dire semplicemente che sono definite le due operazioni, e queste operazioni godono di tutte le proprietà di cui godevano già le operazioni in n e in z, ma c'è una novità su cui ci soffermeremo tra un istante che è questa, che non soltanto ogni numero, ogni elemento ha un opposto, è chiaro, l'opposto della frazione che sono due terzi e la frazione meno due terzi perché per il modo stesso come ho definito l'addizione due terzi sommato con meno due terzi fa zero terzi dunque zero. Ma la novità è questa che adesso anche ogni elemento scuso lo zero è dotato di un simmetrico rispetto alla moltiplicazione, cioè di un reciproco. Chi sarà mai il simmetrico moltiplicativo di due terzi? Quale sarà la frazione che è moltiplicata per due terzi mi da uno? Evidentemente è la frazione che si ottiene scambiando il numeratore col denominatore. Due terzi per tre mezzi fa sei sesti che altro non è che il numero uno. dunque quando diciamo che Q è un campo intendiamo dire questo che non soltanto ogni elemento è dotato di opposto ma tutti gli elementi zero escluso è dotato anche di un simmetrico moltiplicativo quello che comunemente viene chiamato il reciproco. Ma no quindi Q è un campo cosa che non era vera per Z che a maggior ragione non era vera per M e quindi abbiamo questa novità diciamo ma al pari di Z e al pari di N è un insieme ordinato c'è una relazione di minore uguale che è quella che sta specificata sul monitor e che avevo prima illustrato. Quindi siamo in presenza di un campo ordinato di una struttura in cui c'è un ordinamento. Allora il passo successivo che vogliamo compiere è quello di come dire di confrontare la relazione di ordine in per esempio in Z insieme dei numeri interi e la relazione di ordine in Q e di individuare analogie e differenze ci accorgeremo che sono molto più numerose le differenze che non le analogie. Primo fatto facciamoci questa domanda che già compare sul monitor la possiamo leggere insieme poi rimane sul monitor alle mie spalle dato un numero intero esiste un numero intero per così dire immediatamente più grande di esso cosa vorrà dire immediatamente? Cioè tale che fra quello di partenza questo ipotetico numero immediatamente più intero non è contenuto nessun altro numero stessa domanda ma adesso nell'ambito dei razionali dato un numero razionale esiste un razionale immediatamente più grande di esso? queste sono le domande e adesso diamo le risposte beh nell'ambito di z si vede che la risposta è sì è affermativa se io prendo un qualsiasi voglio numero intero 5 faccio 5 più 1 ottengo 6 e fra 5 e 6 non è contenuto nessun altro numero intero lo stesso sarebbe se avessi preso un numero negativo prendo meno 3 faccio meno 3 per esempio più 1 meno 2 fra meno 3 e meno 2 non è contenuto nessun numero intero ma vediamo di fare la stessa domanda nell'ambito dei razionali prendiamo il numero le due frazioni di prima per esempio cos'erano? 2 terzi mi pare 3 quarti avevamo visto che 2 terzi è minore di 3 quarti facciamo finta che che so 2 terzi sia qui questo è il numero che rappresenta 2 terzi qui c'è 0 qui c'è 1 e 3 quarti sia per esempio qui 3 quarti che dire dei razionali ci sono razionali contenuti fra 2 terzi e 3 quarti io dico di sì anzi non solo ce ne sono ma vedremo che ce ne sono addirittura infiniti in altre parole preso un numero razionale e un secondo razionale più grande di esso fra questi due razionali ne posso inserire ne posso considerare ne posso trovare infiniti altri e dunque la domanda che abbiamo posto precedentemente ha risposta negativa se io ho un numero razionale non c'è il razionale immediatamente più grande perché se io come ho appena finito di dire considero un qualsivoglio numero immediatamente più grande di un qualsivoglio numero più grande di un razionale dato fra questi due ne posso inserire un testo cosa basta fare in questo caso basta fare quella che si chiama la semisomma la media aritmetica cioè sommare queste due frazioni e dividere per due la cosa è molto semplice l'avevamo già fatta prima ma lo possiamo ripetere il calco facciamo due terzi più tre quarti abbiamo detto che viene dodici poi due per quattro otto tre per tre nove nove otto diciassette questa è la somma dei due numeri diciassette dodicesimi faccio la semisomma cioè la media aritmetica trovo un numero che è a metà strada tra questi due sarà evidentemente diciassette ventiquattresimi e se lascio come piccolo esercizio se provate a confrontare diciassette ventiquattresimi con due terzi vedete che è più grande due per ventiquattro fra quarantotto tre per diciassette fa cinquantuno ma questo qui è più piccolo di tre quarti fate da soli il prodotto in croce e vi accorgerete che le cose vanno così dunque come ho già detto ripetutamente nell'ambito dei razionali non ha senso dire il razionale come dire che viene immediatamente dopo un razionale non c'è il razionale che viene immediatamente dopo perché come ho detto già più volte preso comunque due razionali fra di esse ne posso trovare altri dunque è chiaro che se posso trovare un razionale fra due terzi e tre quarti l'ho trovato e questo è diciassette ventiquattresimi se ripeto questa procedura trovo un razionale compreso fra due terzi diciassette e ventiquattresimi e un altro compreso qui in mezzo e così posso andare avanti tante volte quante voglio e dunque è chiaro che fra due razionali qual si vogliano esistono infiniti altri razionali si esprime questo fatto ci portiamo qui sul monitor abbiamo già detto che la risposta alla domanda precedente è negativa ma si esprime questo fatto dicendo che q è denso q è un insieme denso chiaramente z è un insieme che non è denso fra due interi consecutivi cioè che differiscono da un'unità non c'è nessun altro intero invece q è denso fra due razionali consecutivi esistono infiniti altri razionali introdurciamo un concetto importante il concetto di insieme come si dice in gergo limitato superiormente o limitato inferiormente ho bisogno di introdurre un concetto intermedio un concetto ausiliario diciamo meglio il concetto di come si dice maggiorante di un insieme di numeri o minorante ragioniamo nell'ambito dei razionali abbiamo la nostra retta numerica abbiamo un insieme di numeri cosa sarà mai un numero maggiorante di un insieme A cosa vuol dire che un numero M è maggiorante di un insieme A beh una cosa molto semplice vuol dire un numero che è maggiore o uguale di tutti gli elementi di A cioè per ogni elemento A piccolo per ogni si scrive così con questa sorta di A capovolta per ogni elemento per ogni numero A piccolo che sta in grande abbiamo che A piccolo è maggiore scusate minore o uguale di M guardate scrivo minore o uguale non minore non è escluso che ci sia un elemento che coincide proprio con M ma quello che è escluso è che ci siano elementi che per così dire giacciono i cui punti rappresentativi giacciono alla destra di M M è un maggiorante se per così dire lascia il nostro insieme A tutto alla propria sinistra non ci sono numeri che scavalcano l'insieme M è chiaro che se un insieme ammette un maggiorante ne ammette infiniti perché ogni numero che sia maggiore di un maggiorante è a più forte ragione un maggiorante se io so che i numeri del mio insieme non superano mille quindi mille un maggiorante beh a più forte ragione non supereranno mille uno mille virgola tre mille quello che volete voi un qualunque numero più grande di un maggiorante mentre è chiaro che se io ho un maggiorante non lo so se un numero minore di un maggiorante è ancora un maggiorante può darsi di sì può darsi di no per esempio se questo maggiorante appartenesse all'insieme beh allora evidentemente sarebbe il massimo di questo insieme e dunque non potrei diminuire questo numero portarmi su un numero M' perché se così facessi avrei un elemento dell'insieme che per così dire scavalca M il nostro numero M' quando diciamo dunque che un insieme è limitato superiormente andiamo semplicemente a dire che è dotato di maggioranti chiaro che ci sono esempi di insiemi che sono limitati superiormente e esempi di insiemi che non sono limitati superiormente tra un istante considererò l'insieme delle cosiddette frazioni proprie cosa sono le frazioni proprie sono le frazioni diciamo che so P su Q dove P e Q sono due numeri per esempio positivi ma P è minore di Q beh se P è minore di Q è tanto come dire che P su Q è minore di 1 quindi ecco che l'insieme delle frazioni proprie ammette maggioranti il numero 1 e ha più forte ragione anche tutti i numeri maggiori di 1 cosa sarà un minorante a questo punto ci vuole poco a capire cosa sarà un minorante un minorante sarà una cosa diciamo perfettamente perfettamente analoga un numero minorante di un insieme è un numero m piccolo che questa volta è m piccolo che non supera nessun elemento di A l'insieme A per così dire sta tutto qui in mezzo quindi questa volta abbiamo che per ogni A piccolo che appartiene da grande abbiamo che m piccolo è minore o uguale di A dove al solito non escludo che valga il segno di uguaglianza quindi questa volta non ci sono elementi di A che per così dire giacciono alla sinistra se la retta è orientata nel solito modo giacciono alla sinistra del mio insieme vi ripeto un insieme si dice limitato superiormente se ammette maggioranti si dice limitato inferiormente se ammette maggioranti se prendono insieme dei numeri pari dei numeri positivi pari questo non è limitato superiormente è illimitato superiormente contiene numeri grandi tanto quanto si vuole mentre chiaramente è limitato inferiormente dal numero zero se prendono insieme dei multipli di tre la stessa cosa se prendono i numeri primi due, tre, quattro, cinque, sette beh questa cosa non è così ovvia che ci siano infiniti i numeri primi questo è un celebre teorema la cui dimostrazione è contenuta negli elementi di Euclide quindi una cosa che si sa da molto tempo da 23 secoli almeno esistono infiniti i numeri primi ancora abbiamo un esempio di insieme che è limitato superiormente ma che è illimitato superiormente ma limitato inferiormente da due visto che due è il più piccolo numero e così via la domanda che ci facciamo è questa ma se un insieme è limitato superiormente per esempio possiamo star certi che questo insieme ammetta un elemento massimo beh come sempre la domanda che abbiamo fatto ha una risposta positiva o negativa a seconda dell'ambiente in cui ci collochiamo la domanda compare anche qui a monitor e la lasciamo in maniera che rimanga alle mie spalle un insieme limitato superiormente è necessariamente dotato di massimo cioè siamo sicuri che c'è il massimo un insieme limitato inferiormente è necessariamente dotato di minimo vediamo di rispondere a queste due domande e anticipo subito quale sarà il risultato la risposta è sì cioè la risposta è affermativa se siamo nell'ambito degli interi per esempio la risposta è no nel senso che un insieme può anche essere privo di massimo pur essendo limitato superiormente se siamo nell'ambito dei razionali vediamo il perché dunque mettiamoci innanzitutto negli interi dunque abbiamo un insieme un insieme non vuoto naturalmente un insieme contenga effettivamente elementi cioè almeno un elemento di questo insieme a piccolo che sta qui e questo insieme è limitato superiormente quindi esiste un maggiorante M grande beh vediamo un po' dunque abbiamo detto non è escluso che M grande sia esso stesso un elemento dell'insieme se M grande è esso stesso un elemento dell'insieme abbiamo terminato le nostre pene perché chiaramente poiché tutti gli elementi dell'insieme stanno alla sinistra di M grande questo elemento questo maggiorante che esiste per ipotesi se per avventura appartiene all'insieme A grande è il massimo di A grande e scriverò quindi max di A grande uguale a M se questo numero non appartiene A grande mi porto in M meno 1 mi porto a sinistra e mi rifaccio la stessa domanda se per caso questo appartiene A grande è il massimo se non lo è mi porto su M meno 2 e così procedo dopo un numero finito di queste operazioni certamente vado a incontrare un elemento di A grande perché abbiamo detto A grande non è vuoto e questo elemento questo primo elemento di A grande per così dire che io incontro è il massimo di A vi faccio osservare che questo massimo di A è al tempo stesso un maggiorante ed è un maggiorante molto speciale evidentemente fra tutti i maggioranti abbiamo detto che se M è un maggiorante anche tutti quelli più grandi sono maggioranti e adesso ragiono ancora nell'ambito degli interi ecco perché i maggioranti li segno così e quindi stanti fra tutti i maggioranti dicevo questo elemento massimo è un maggiorante molto speciale è il più piccolo di tutti i maggioranti cioè è quel maggiorante che non posso ulteriormente diminuire pena trovare un elemento che maggiorante non è più potremmo dire così ma veniamo adesso di rifare la stessa domanda nell'ambito dei razionali ho già anticipato che la risposta è no non è sempre vero che un insieme dotato di limitato superiormente è dotato di massimo così come evidentemente per simmetria non è sempre vero che un insieme di numeri razionali dotato di minoranti sia dotato di minimo prendiamo come si diceva un momento fa l'insieme dei numeri razionali rappresentati dalle frazioni proprie quindi abbiamo che 0 è minore di p e minore di q così se riaviamo un momento a quella figura che rappresentava le frazioni proprie che rappresentava i numeri razionali le frazioni e che avevo preparato nella lezione precedente la recupero per un istante chiedo alla regia cortesemente di inquadrarla ecco se pensiamo un po' dove stanno le frazioni e cosiddette proprie abbiamo detto p lo portiamo in ordinata q lo portiamo in ascissa quindi p è minore di q se p fosse uguale a q saremmo sulla bisettrice del primo quadrante invece p è minore di q quindi siamo nella zona che è compresa fra il semiasse positivo delle ascisse e la bisettrice del primo quadrante tutti i pallini che stanno dentro a questo angolo metà di un angolo retto apertura a 45 gradi sarà vero che esiste una frazione che è più grande di tutte le io dico di no come faccio a dimostrarlo faccio così prendo ad arbitrio una frazione propria e faccio vedere che sono capaci di costruire un'altra frazione propria che è più grande di quella di cui sono partito e dunque questo dimostra che non esiste la più grande frazione propria perché ripeto dico che sono capaci di far vedere che dato una frazione ne posso trovare una più grande di essa come faccio per esempio ho tre quarti sarebbe questo qui questo pallino qui in figura e dico per esempio che una frazione che è certamente più grande di tre quarti si ottiene aumentando di una unità tanto il numeratore 3 più 1 che fa 4 come il denominatore 4 più 1 che fa 5 sarebbe come aumentare di un'unità vorrebbe dire muoversi così di 45 gradi parallelamente alla bisettrice e portarsi da questo pallino a questo qua si fa presto a provare 3 per 5 15 4 per 4 16 quindi effettivamente questo è più grande in generale se io ho la frazione propria P su Q un pallino che sta in questa zona aumento di 1 P più 1 Q più 1 quindi mi muovo a 45 gradi nella direzione che ho già specificato e trovo una frazione che è più grande provare per credere non sto a farlo ma è immediato se fate i prodotti in croce ma accorgerete che se P è minore di Q si fa subito viene P per Q più P e P per Q più Q quindi P per Q più P è minore di P per Q più Q secondo me sciogli lingua ma P per Q più P sarebbe il primo prodotto in croce è minore di P per Q più Q P e Q si semplificano P è minore di Q per ipotesi quindi adesso non sto a fare la figura perché diventerebbe eccessiva o forse posso tentare di farla la congiungente all'origine con questo punto è meno pendente di poco direte voi ma è un pochino meno pendente della congiungente all'origine con quest'altro punto che ho ottenuto muovendovi di 45 gradi in questa direzione dunque l'insieme delle frazioni proprie è limitato superiormente dall'elemento 1 ma non a massimo e ci vuole poco a capire anzi qui questo è anche più facile che preso una qualunque frazione propria voi direte ma anche se è molto piccola ma cosa sono i numeri molto piccoli e Dio lo sa io prendo un millesimo e certo un millesimo è molto piccolo dovrei prendere 1 e qui allontanarmi di 1000 quindi ho una semiretta che pende pochissimo già ma ci vuole poco trovare un numero una frazione più piccola di questa basta aumentare il denominatore 1001, 1002, 1003 quello che volete 2000 1 diviso 1001 ecco che abbiamo trovato una frazione che è più piccola ancora propria ancora maggiore di 0 ma è più piccola della frazione che mi era stata data dunque abbiamo qui una piccola sorpresa diciamo abbiamo una novità quindi non ogni insieme di numeri razionali limitato superiormente è dotato di massimo quando ciò accade questo massimo è al tempo stesso un minorante ed è un minorante ed è al tempo stesso un maggiorante chiedo scusa ed è un maggiorante molto speciale di tutti i maggioranti è il più piccolo e non sempre accade che un insieme limitato inferiormente sia dotato di minimo quando questo accade questo minimo di A si scrive min A è un minorante molto speciale fra tutti i minoranti è il più grande ma nel caso qui dell'esempio delle frazioni proprie che ancora compare sul mio foglio questo insieme A è ben vero che non ammette massimo ed è ben vero che non ammette minimo però diciamo così ammette due elementi che in qualche modo potremmo dire sono due surrogati del massimo e del minimo è facile vedere che fra tutti abbiamo detto uno è un maggiorante dell'insieme A delle frazioni proprie perché evidentemente uno è maggiore di P su Q tutte le volte che P è meno di Q ma questo maggiorante è un maggiorante molto speciale è il più piccolo dei maggioranti non posso ulteriormente scendere se qui c'è uno facciamo un disegnino così se qui c'è uno non posso ulteriormente considerare un razionale più piccolo di uno perché ho detto cinque minuti fa che fra questo ipotetico maggiorante uno io potrei trovare ancora un numero razionale che ovviamente essendo minore di uno sarebbe rappresentato da una frazione propria e dunque non è vero che questo numero più piccolo di uno è ancora un maggiorante in altre parole uno fra tutti i maggioranti è un maggiorante molto speciale il più piccolo dei maggioranti così come zero la stessa ragione è un minorante molto speciale è il più grande dei minoranti non posso considerare un numero razionale positivo e sperare che questo sia ancora minorante perché certamente fra zero e questo numero posso considerare una frazione ancora positiva che è più piccola di quella che io ho considerato dunque abbiamo questi due elementi che sono come dire due surrogati del massimo e del minimo che si chiamano rispettivamente estremo inferiore ed estremo superiore ci portiamo qui sul monitor e leggiamo il minimo dei minoranti vorrei aggiungere quando esiste perché vedremo tra un po' che può capitare anche che non esista il minimo dei minoranti si chiama estremo superiore di A si indica in simboli sub A e il massimo dei minoranti o chiedo scusa mi accorgo che ho commesso una svista scuso con i miei ascoltatori il minimo dei minoranti è un errore evidentemente il minimo dei maggioranti errarumani chiedo veglia il minimo dei maggioranti si chiama estremo superiore in simboli sub A il massimo dei minoranti si chiama estremo inferiore di A in simboli IF di A quindi l'esempio delle frazioni proprie è un esempio di insieme limitato sia inferiormente che superiormente che non ha massimo ma che ha estremo superiore ripeto visto che prima mi sono sbagliato questo estremo superiore è un minorante speciale è un maggiorante speciale è il minimo dei maggioranti ammette estremo inferiore che è 0 è un minorante un minorante speciale è il massimo dei maggioranti è il massimo dei minoranti si vede che destino che io mi sbaglio ma naturalmente dato che abbiamo visto che esistono insiemi che non hanno minimo insiemi che non hanno massimo è abbastanza spontaneo domandarsi ma non è che le cose potranno andare ancora peggio in un certo senso non è che ci sono degli insiemi di razionali che non solo non hanno massimo ma tali che non esiste nemmeno l'estremo superiore cioè non esiste nemmeno il minimo dei maggioranti dopo tutto l'insieme dei maggioranti è ancora un insieme di razionali dato un insieme A di razionali si ammette maggioranti un insieme A di numeri razionali si ammette maggioranti questi maggioranti costituiscono un certo insieme lo potrei chiamare B e dire che in B ho messo i maggioranti di A è come dire che sembra un gioco di parole ma è come dire che gli elementi di A sono minoranti rispetto a B evidentemente non sarà che per caso esistono insiemi come dire ancora più patologici di quello che ho appena mostrato che ripeto non solo non ammettono massimo ma nemmeno ammettono estremo superiore cosa vuol dire dunque insiemi di numeri razionari che ammettono maggioranti questi maggioranti abbiamo detto sono infiniti perché trovatone uno tutti quelli più grandi di esso sono ancora maggioranti io considero questo insieme dei maggioranti mi domando chi è il più piccolo e scopro con una certa sorpresa che questo più piccolo non c'è beh dispiace darvi questa brutta informazione se è la prima volta che lo sentite dire ma le cose vanno proprio come stiamo ipotizzando cioè effettivamente questa eventualità si può effettivamente verificare e qui nuovamente devo fare una come si dice una digressione di natura geometrica devo tornare al problema della misura delle grandezze geometriche perché proprio la soluzione o la mancanza di soluzione nell'ambito dei razionali di questo problema mi consente poi di tornare al punto cui sto abbandonando la considerazione dei razionali per fornire un esempio che mi consente di dire che effettivamente esistono insiemi del tipo che ho appena ipotizzato il problema è questo è molto antico prendiamo un quadrato al solito non guardate le figure che sono fatte così alla buona e scegliamo come unità di misura il lato e domandiamoci quanto misura la diagonale di questo lato beh ci vuole poco a capire che i numeri naturali non bastano per misurare questo la diagonale ci vuole poco a capire che se porto col compasso così porto l'unità di misura sulla diagonale la diagonale è più lunga del lato quindi uno è diciamo così troppo poco ma se la porto due volte ho troppo quindi con i naturali non ce la faccio beh benissimo ma noi abbiamo detto che possiamo suddividere in m parti l'unità di misura m parti uguali così considerare un emesimo dell'unità di misura quindi questo piccolo segmentino un emesimo di u e poi vedere se per caso riportando consecutivamente n volte questo emesimo dell'unità di misura per caso io non ricopro esattamente la diagonale se così è dico che la frazione n su m è la misura della diagonale rispetto al lato ma la cosa non è tanto evidente dice ma non so basterà dividere in due parti non sarà che ci sta una volta e mezzo diciamo così se divido in metà beh forse no ci sarà questo sottomultipo del lato che sta esattamente che in definitiva la nostra domanda qual è la diagonale e il lato ammettono un sottomultipo comune chiamala così cioè posso dividere il lato in un numero di m parti posso trovare un sottomultipo del lato che sia al tempo stesso un sottomultipo anche della diagonale ma così operando il buonsenso uno dice ma sì per Diana io m lo posso prendere come pare a me grande tanto quanto voglio è mai possibile che io non possa dividere questo segmento in un numero così elevato di parti e quindi ottenere un sottomultipo così piccolo tale che riportando in un numero conveniente di volte io ottenga esattamente la diagonale ebbene con grande sorpresa degli antichi Pitagora e i pitagorici i suoi sequaci i quali si erano illusi di poter studiare tutto il mondo conosciuto e conoscibile autorizzando soltanto i numeri naturali con grande sorpresa di Pitagorici quindi una storia molto vecchia che risale approssimativamente a 25 secoli fa si scopre che questo sottomultipo comune la diagonale al lato non esiste la diagonale come dicevano gli antichi è incommensurabile rispetto al lato cosa vuol dire incommensurabile vuol dire non è possibile misurarla utilizzando il lato se come strumento di misura utilizziamo i razionali quindi quando diciamo che la diagonale è incommensurabile rispetto al lato vogliamo dire proprio questo non c'è un sottomultipo comune alla diagonale al lato perché ma perché il teorema di Pitagora ci insegna che il quadrato costruito su questo cateto il cateto misura 1 rispetto a se stesso 1 al quadrato più il quadrato di questo 1 al quadrato fa il quadrato dell'ipotenusa noi vogliamo dimostrare che non esiste alcun razionale che misuri l'ipotenusa e ragioniamo come si dice per assurdo come si fa a dimostrare che una cosa non c'è si suppone che ci sia e si fa vedere che questo conduce a una contraddizione conduce a un assurdo se ci fosse un numero che misura la diagonale 1 al quadrato più 1 al quadrato dovrebbe essere il quadrato di n diviso n così al quadrato cioè sciogliendo un poco i calcoli 1 più 1 fa 2 qui viene n quadro diviso m quadro che è tanto come dire che 2 volte m quadro dovrebbe essere uguale a n quadro io dico che questa uguaglianza è impossibile non esistono coppie di numeri naturali che ci facciano il piacere che 2 volte m quadro sia uguale a m quadro questa uguaglianza è in ogni caso falsa vediamo perché vi ricordate la scomposizione in fattori primi si studia le scuole medie 12 come dire 3 per 4 cioè 2 al quadrato per 3 per 3 alla 1 così quando io ho scomposto in fattori primi un numero come faccio a trovare la scomposizione in fattori primi del quadrato di questo numero che so 144 che è 12 al quadrato è molto facile basta prendere la scomposizione in fattori primi della base e fare che cosa raddoppiare tutti gli esponenti qui c'è scritto 2 ci scrivo 4 qui c'è scritto 1 se volete non c'è scritto niente ci scrivo 2 quindi una volta che ho trovato la scomposizione in fattori primi di un numero per avere la scomposizione in fattori primi del quadrato di quel numero basta raddoppiare tutti gli esponenti allora chiediamoci nella scomposizione in fattori primi di n quadro con che esponente compare il fattore 2 voi direte beh non lo so sì certo non lo so ma io dico che certamente questo il fattore 2 o non compare proprio se n è un numero dispari 2 non compare possiamo dire compare 0 volte se volete quindi se non compare nella scomposizione di n non compare nemmeno nella scomposizione di n quadro oppure se compare con un certo esponente nella fattorizzazione di n compare con l'esponente raddoppiato nella fattorizzazione di n quadro dunque in ogni caso compare con un esponente pari eventualmente nullo anche 0 è un numero pari quindi qui a destra nella scomposizione in fattori primi del numero n quadro il fattore primo 2 compare un numero pari di volte ma per la stessa ragione il numero 2 compare un numero pari di volte nella fattorizzazione di m quadro allora ecco subito che abbiamo trovato una contraddizione perché se nella fattorizzazione di m quadro 2 compare un numero pari di volte dopo che ho moltiplicato per 2 questo esponente pari aumento di un'unità diventa dispari abbiamo trovato una contraddizione questi due numeri 2m quadro n quadro dovrebbero essere uguali invece io scopro che nella scomposizione del numero che sta a primo membro il fattore 2 compare un numero dispari di volte nell'analoga scomposizione del numero a secondo membro il numero 2 compare un numero pari di volte dunque questo problema è insolubile ricordiamocelo così non esiste alcun quadrato un numero razionale lo leggiamo qui sul monitor non esiste alcun razionale il cui quadrato sia uguale a 2 lo leggiamo qui sopra il monitor che sta alle mie spalle possiamo ricordarcelo anche in un'altra maniera potremmo dire il doppio di un quadrato perfetto è la stessa cosa potremmo dire il doppio di un quadrato perfetto non può essere ancora un quadrato perfetto a questo punto siamo pronti per dare come dire l'ultima l'ultimo per fornire l'ultimo esempio in qualche modo quello più patologico un esempio di insiemi di razionali che è limitato superiormente ma che non ha massimo cosa facciamo? prendiamo come insieme dei numeri razionali l'insieme delle frazioni P su Q P e Q entrambi positivi tali che P quadro diviso Q quadro cioè il quadrato di questa frazione è minore di 2 guardate potrei anche scrivere minore uguale a 2 non cambierebbe nulla perché ho appena finito di riconoscere che non c'è alcun razionale il cui quadrato sia esattamente uguale a 2 quindi per esempio non so la frazione 2 terzi ce la metto in A vediamo un po' il quadrato di 2 terzi cosa fa? fa 4 noni beh questa sì questa è minore di 2 3 quarti ce la metto in A 3 quarti no facciamo un esempio più intelligente non so proviamo 5 terzi non lo so sì proviamo 5 terzi 5 terzi lo metto in A se faccio il quadrato ho 25 noni no questo non ce la metto perché 25 noni è più grande se facciamo non so 7 quinti proviamo 7 quinti mi sembra un esempio più interessante il quadrato fa 49 venticinquesimi questo è più grande o più piccolo di 2 più piccolo di 2 perché il doppio di 25 è 50 questo lo metto in A e così via chiaramente questo insieme è limitato superiormente e chi sono precisamente i maggioranti di questo insieme? beh ci vuole poco a capire se ho due numeri razionali positivi il confronto fra questi numeri equivale al confronto fra i loro quadrati quindi se ho un numero è minore di un altro parlo sempre di numeri positivi il quadrato del primo è minore del quadrato del secondo quindi i maggioranti di questo insieme sono precisamente tutti i numeri razionali positivi chiamiamoli questa volta N su M N M entrambi positivi tali che N quadro diviso M quadro è maggiore di 2 anche qui ripeto potrei scrivere maggiore o uguale non cambierebbe nulla perché tanto sappiamo già che l'uguaglianza non è mai soddisfatta quindi mettere c'è o non mettere c'è non cambia nulla bene è facile abbastanza facile poi rimando per i dettagli al testo di riferimento esattamente al paragrafo 1.4 del testo di riferimento è abbastanza facile dimostrare che se io prendo un qualunque elemento di A grande il numero in cui il quadrato è minore di 2 ne posso trovare un altro che è ancora in A grande ma è più grande di quello di partenza quindi preso un elemento di A posso trovare un altro elemento di A che è più grande dell'elemento di partenza dunque A è privo di massimo ma la stessa cosa posso fare per B per l'insieme dei maggioranti preso comunque un elemento di B ne posso trovare un altro che è più piccolo di quello di partenza ma ancora che sta in B e dunque al tempo stesso io dimostro che A è privo di massimo e B è privo di minimo e lo posso fare ci portiamo qui sul monitor lo posso fare in una maniera abbastanza semplice anche se al momento sembro un po' misteriosa associando ad ogni numero razionale positivo X il numero razionale X' che è dato da 2X più 2 diviso X più 2 e se facessimo il grafico di questa funzione per così dire avremmo un ramo di perbole equilatera probabilmente i miei ascoltatori diranno come hai fatto a trovarlo beh rimando appunto al testo di riferimento lì c'è anche un grafico che fa capire come mai si perviene a questa a questa questa formula diciamo ebbene non sarebbe difficile farlo e ripeto si può fare con poco d'esercizio in ogni caso sul testo di riferimento è fatto in dettaglio non sarebbe difficile vedere che se io parto da un valore di X che sta in A grande cioè il quadrato meno di 2 X' sta ancora in A grande ma è più grande se parto invece da un numero all'incontrario che sta in B cioè il quadrato è maggiore di 2 X' è più piccolo dell'elemento di partenza ma è ancora un elemento di B dunque per concludere Q è denso ma per così dire non è completo diciamo ha delle lacune non posso risolvere in B l'equazione X quadro uguale a 2 la parola radice di 2 è impronunciabile nell'ambito di Q proprio per completare questo insieme che non è completo dobbiamo passare dai razionali ai reali inventandoci un nuovo tipo di numeri che chiameremo non razionali o se preferite irrazionali